Un atto di solidarietà simbolica dopo l'alluvione di quest'estate qui a Faenza, per la prima volta la santa patrona della città di Faenza, la santa umiltà, che anche grazie alla sua storia, quella del suo monastero, unisce la Romagna con la Toscana, Faenza con Firenze. Dopo il restauro, in pieno splendore, queste 22 tavole del politico della santa umiltà di Pietro Lorenzetti, qui esposto in una teca di nuova tecnologia che protegge in maniera straordinaria e qui per tutto il periodo pre-natalizio, natalizio e anche gennaio da ammirare nella Pinacoteca di Faenza.